Buon sabato e ben trovati all'appuntamento con le previsioni del tempo, cominciamo con la situazione generale europea. Una serie di corpi nuvolosi sono arrivati verso la Francia e parte della Spagna e si sta pian piano dirigendo verso il nostro paese, portando a partire dalle prossime ore una nuova ondata di maltempo. Provisioni per il 29 novembre 2014 caratterizzata da una situazione di cielo sereno o poco nuvoloso su Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Sulle regioni del nord-est Italia, in particolare su Liguria e Veneto, nuvolosità irregolare con possibili piogge anche per quanto riguarda l'est pugliese, in particolare nel Salento e nuvolosità su Calavia e Sicilia. Temperature comprese tra 11 e 21 gradi con 20 di media intensità e mare mosso l'Adriatico, poco mossi gli altri mari.